Fu trovato all'alba senza vita a terra, poco lontano il suo scooter. Il suo corpo era incastrato tra le due ruote di un'auto, una Citroen C3 con le portiere aperte e le luci accese. Un mistero rimasto irrisolto per mesi. Oggi la svolta è la scioccante verità. Fabio Giannone venne travolto, speronato, a bordo del suo scooter per vendetta. Il suo corpo senza vita venne ritrovato nel quartiere di Secondigliano, lungo il corso, all'alba del 10 aprile del 2016. I poliziotti hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare ad un pregiudicato, Pasquale Paolo, 22 anni, che si trova agli arresti domiciliari e a Vincenzo De Luca, 22, detenuto nel carcere di Santa Maria Capuavetere. I due avevano investito con un'auto rapinata Giannone che viaggiava in sella ad uno scooter per vendicarsi di un pestaggio subito ad opera di Giannone e del fratello il 4 gennaio del 2015, nel quale De Luca aveva riportato numerose fratture. Il pestaggio era stato causato dal danneggiamento delle vetrine di un negozio di abbigliamento di proprietà di uno zio dei fratelli Giannone, avvenuto nella notte del capodanno del 2015 da parte dei De Luca. Grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Secondigliano hanno accertato che Giannone fu investito volontariamente da De Luca. La sua morte sembrava colpa di un tragico incidente stradale provocato da malviventi in fuga, dato che la vettura abbandonata in strada risultò rubata da due giorni. Le indagini della polizia invece hanno portato ad un esito diverso, molto diverso. L'accusa ora è di omicidio volontario premeditato. La visione delle immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza installate nella zona hanno permesso di capire che quello fu un omicidio per futili motivi.